La corrente che ha raggiunto le regioni del sud tende ad una spiccata variabilità ma senza AFA. Previsioni del tempo per martedì 26 luglio 2016. Cielo poco nuvoloso al mattino con qualche pioggia sul settore adriatico ma con tendenza a generale situazione positiva nell'arco del pomeriggio sera. Temperature 22-34 gradi su Gargano, Foggiano e Tavoliera. 21-34 gradi su Barese, Bat, Salento e Tarantino. Venti a prevalente brezza moderata, Mari, Mosso, Adriatico, Tirreno e Ionio.